Musica Conclusa l'edizione 2020 dell'esercitazione Cyber Eagle Accademia Aeronautica, incorporati i nuovi aspiranti piloti Ben ritrovati con le notizie di Videonews Da oggi, in ottemperanza al nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 la nostra conduzione avverrà con la mascherina indossata Quella che mostro oggi è stata prodotta dall'Aeronautica Militare nell'ambito del Progetto Atena che ha previsto la riconversione temporanea di alcuni settori delle attività dei gruppi di manutenzione autoveicoli di Forlì e Bari che hanno organizzato una vera e propria filiera produttiva di mascherine di protezione individuali certificate dall'Istituto Superiore di Sanità Passiamo ora alle notizie di questa settimana Formazione a distanza, direzione da remoto e coordinamento diffuso su tutto il territorio nazionale Queste le innovazioni introdotte nell'edizione 2020 dell'esercitazione Cyber Eagle Vediamo il servizio del Tenente Michela Violante Anche quest'anno l'Aeronautica Militare è stata impegnata con un'esercitazione di Cyber Defense alla sua quinta edizione che si è svolta tenendo conto delle esigenze addestrative rivolti al personale e delle necessarie cautele imposte dall'epidemia da Covid-19 Quest'anno sono stati coinvolti gli apparati informativi ed il personale di diversi enti della Forza Armata con particolare attenzione al sesto, al trentaduesimo stormo e dal comando intermedio dal quale dipendono i due reparti di Ghetti e di Amendola il comando forze da combattimento che si trova a Milano L'Aeronautica Militare considera il dominio Cyber il quinto dominio delle operazioni militari avendo la responsabilità di proiettare il potere aereo non può esimersi da essere attentissima nel garantire la funzione del comando e del controllo Comando e controllo vuol dire scambio di dati in maniera sicura, veloce ed efficace quindi dà sempre l'attenzione dell'Aeronautica rivolta a questo dominio per acquisirne competenza, conoscenza e poterlo gestire al meglio al fine di garantire l'espressione come dicevo della capacità operativa del potere aereo Oltre al distanziamento due sono state le parole chiave della Cyber Eagle 2020 Formazione ed addestramento con il personale dei reparti selezionati che ha ricevuto prima una prolungata formazione a distanza sulla Cyber Awareness iniziata già dallo scorso maggio e che successivamente è stato interessato alla parte live dell'esercitazione quest'ultima svolta tra il 28 settembre e l'8 ottobre con l'obiettivo di addestrare la Forza Armata a reagire alle nuove mutevoli minacce cyber il tutto sotto la direzione del Resia il reparto Sistemi Informativi Automatizzati La sfida principale è stata ovviamente quella di conciliare la necessità di rispettare le norme di prudenza dettate dalla situazione pandemica con l'esigenza di fornire un evento addestrativo funzionale e di livello adeguato all'esigenza della Forza Armata Grazie alla tecnologia a disposizione alle capacità di ripianificare e di adattarsi a situazioni contingenti siamo stati in grado di rimodulare l'esercitazione 2020 in modo da prevedere attività distribuite sul territorio Nello specifico abbiamo condotto da remoto le attività di formazione, coordinamento e mentoring adottando nuovi approcci addestrativi senza perdere di qualità ed efficacia La Cyber Eagle 2020 rappresenta un'importante dimostrazione di resilienza dell'aeronautica militare nell'addestramento in un settore delicato come quello della difesa cibernetica che deve guardarsi da una minaccia in continua evoluzione e che non si ferma una Forza Armata che attraverso queste attività genera consapevolezza e cultura tra il personale reagisce, si addestra per essere pronta ad affrontare momenti di crisi e vulnerabilità Siamo ormai al quinto anno di questa tipologia di esercitazione ogni anno scopriamo, impariamo e focalizziamo meglio le aree nelle quali bisogna fare attenzione e in questi cinque anni la cultura è cresciuta molto quindi molti reparti e molto personale si è reso conto di quanto sia importante avere conoscenza, avere gli strumenti basici con i quali sapersi difendere da questo tipo di attacchi quindi è proprio una dimostrazione di come deve diffondersi in tutto il personale questa cultura è la base sulla quale puoi garantire la miglior protezione possibile per un mondo che è ormai legato all'informazione è legato allo scambio dati senza i quali ormai non siamo più in grado neanche di vivere Impegno, molto studio, sacrificio e passione sono stati gli ingredienti giusti che hanno permesso a 48 aspiranti piloti di superare le prove previste dal concorso per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia Aeronautica I giovani 44 ragazzi e 4 ragazze provenienti da ogni parte d'Italia hanno varcato ieri giovedì 15 ottobre i cancelli dell'Istituto di Formazione per la prima volta in veste di cadetti con emozione, entusiasmo e molte aspettative gli aspiranti piloti saranno presto pronti per affrontare un'ulteriore prova la più significativa per loro la selezione al volo presso il settantesimo stormo per conseguire il brevetto di pilota di aeroplano sul velivolo addestrativo ad elica SF 260EA l'Accademia Aeronautica accoglierà prossimamente anche i giovani del corpo sanitario del corpo del gene aeronautico del corpo di commissariato e quelli del ruolo delle armi 83 allievi ufficiali complessivi vincitori di concorso che si uniranno ai 13 frequentatori stranieri che ogni anno a seguito di accordi internazionali giungono a Pozzuoli per oggi è tutto video news termina qui ma continuate a seguirci sui social network domenica vi racconteremo in diretta la partenza della quindicesima tappa del Giro d'Italia che per la prima volta nella storia prenderà il via da una base aerea il secondo stormo dell'aeronautica militare e casa delle frecce tricolori arrivederci alla prossima edizione vi auguro un buon weekend e fate come me indossate sempre la mascherina